andiamo ad analizzare il finale del classic physique chiaramente questo il call out con i primi quattro urska lecinski chris bamsted mike sommerfeld ramondino puoi fare un video a parte su ramondino e credo che includerò anche wesley vissers perché sono state le delusioni principali del classic physique credo è poi se avete un'idea di cosa si è andato storto in ramon e wesley scrivetelo nei commenti perché sto ancora cercando di formare un'idea precisa su loro due per quanto riguarda urska lecinski come mi ha suggerito qualcuno nei commenti probabilmente mi fa un po strano perché ha le clavicole strette in effetti i dorsali che si allargano un po troppo verticali piuttosto che in orizzontale e secondo me anche il trapezio nel risente con queste clavicole un po strette cioè mi fa un effetto un po strano forse boh non è praticamente classico non lo so perché però mi fa strano come penso avete ben capito comunque andiamo ad analizzare mike sommerfeld perché tetesco quindi si dice chris bamsted nel call out finale ma è che è stato una rivelazione io chiaramente non seguo molto il classic quindi ero abbastanza ignaro dei suoi progressi mi aspettavo minimamente un secondo posto front double bicep credo che il vantaggio principale di chris sia che è chris cioè il campione in carica è chris bamsted è quello che però il buon mike non sfigura i bici viti sono sicuramente superiori non mi piace particolarmente il fatto che sposti il bacino di lato le spalle da un'altra parte forse è una mia pinnicca cioè un po una mia fissa però sono entrambi molto molto definiti poi chiaramente lo streaming non è che si capisca granché se fossi stato lì davanti forse avrei notato qualcosa in più però mi piace di più chris perché comunque più alto più imponente e credo che anche questo giochi a suo favore l'altezza che non fa mai male soprattutto nel classic physique perché chris è lo standard del classic physique a cui tutti quanti dovranno cercare di avvicinarsi in futuro side chest anche in questo caso non mi dispiace per niente mike il petto mi sembra un po più denso e pieno rispetto a quello di chris e forse anche il femorale mi piace un po di più però un'ottima posa anche per chris è sicuramente imponente davvero massa in più esecuzione perfetta è più largo anche se non di tantissimo nelle spalle nei pettorali un'ottima posa per chris però mike fa la sua porca figura anche in questo caso poi non si sa per quale motivo nel classic physique alcune pose tipo l'hard spread frontale e posteriore o side tricep non vengano considerate come pose classiche anche se ne facevano 40 anni fa si va direttamente al back double bicep qui si vede la definizione ottima di mike nei glutei che anche chris chiaramente mi piace anche la pienezza del trapezio di mike forse leggermente superiore a quella di chris che comunque fa una specie di effetto sarcofago o matrioska perché è più alto e più grosso è un po più tutto e nonostante chris abbia dei bicipiti così così hanno un picco superiore rispetto a quelli di mike che restano un filino più piccolini però c'è anche un'esecuzione leggermente diversa da parte di mike si butta molto più indietro con la schiena col trapezio rispetto a chris che sta un po più dritto rispetto a mike chiaramente questo credo che siano stratagemmi perché i giudici sono lì sotto e quindi vogliono cercare di buttarsi indietro per far vedere di più la schiena cosa che chris non fa perché probabilmente non ne ha bisogno o non gli piace poi chiaramente saltiamo l'hasper del side tricep si va di tenente all'absentize che fermo prima quello di chris perché mike non l'aveva ancora fatto non mi piace particolarmente la zona addominale di chris perché per genetica non ha degli addominali che saltano mettiamola così cioè fa il crunch però sono un po' piattini quindi lo fa a me non piace ma non dico solo in chris in generale cioè è una questione di di genetica fondamentalmente ci si può fare poco come c'è la chris ce l'ha anche altra gente un addome di questo tipo però fa chiaramente questa prima versione con un crunch addominale poi tira fuori il vacuum mi piace la definizione nel grandentato la separazione nei quadricipiti che secondo me è superiore rispetto a quella di mike anche se sono estremamente vicini qui vedete la zona addominale di mike che mi piace un po di più anche se ha un po una separazione tra gli addominali qui si vede quello che dicevo prima cioè sono addominali che saltano un po di più sono più pieni più tondi non so come definirlo una cosa che non mi piace particolarmente di mike è la bronzatura troppo rossa a me piace più il bronzo il dorato in generale nelle bronzature non dico dorato più sul marroncino tipo quella che ha chris tipo quella che tanta altra gente ottimi polpacci di chris forse le gambe mi piacciono un filino di più quelle di chris però su un do bodybuilder che sono stati molto molto vicini magari se chris è stato chris avrebbe potuto anche spuntarla a mike ma non lo so è vicini ma non troppissimo qui si fa un po di pose classiche che non starò a commentare troppo perché non mi interessano particolarmente io penso che quando si arrivi allo mosmascola nella open alle pose classiche nel classic che che ne dicano i giudici che valutano anche la mosmascola se come i giochi sono sono già fatti cioè le cose importanti sono ben altre e non tutte le pose secondo me hanno lo stesso valore è lo stesso peso comunque chris si ritira quest'anno da campione imbattuto ha fatto quello che hanno fatto lì e pochi altri se non sbaglio adesso vedremo quale sarà lo standard a cui avvicinarsi se resterà chris o se vedremo anche nel classic quello che stia vedendo nella open cioè campioni che cambiano di anno in anno e a me è una cosa che che non piace poi una cosa che hai meno mai che sono i polpacci l'ho detto prima però qui si notano di più i polpacci di mike comunque stavo dicendo a me piace vedere un campione dominante che mette d'accordo tutti ma non perché non mi vada bene che vinca uno che vinca un altro però se ogni anno si cambia vuol dire che non c'è un bodybuilder che come lo vedi dici che il campione dici che il più forte in maniera indiscussa ed è quello che manca alla open da troppi anni ormai secondo me mi piace vedere anche dei cicli mi piace un po di builder dominante e adesso che non c'è più chris vedremo se ci sarà un altro bodybuilder vediamo se l'anno prossimo mike vincerà se ci sarà il ramondino o se si affermerà qualcun altro buona ciao ciao